Una buona comunicazione del rischio ai cittadini prevede sicuramente la necessità di una attenta pianificazione, di una valutazione anche di comunicazione legata a per esempio con gli eventi con preannuncio al rischio specifico e al codice colore delle allerte per esempio. Altra cosa necessita di un patto con i cittadini, nel senso che i cittadini devono sapere dove troveranno le informazioni, chi gliele darà, per esempio se ci sono profili social, se i profili social sono presidiati sempre oppure se a un certo punto, alla sera, non ci sarà più nessuno a leggere e a rispondere a quel profilo. E devono anche sapere per esempio nel caso dei social cosa non chiedere, quali risposte non possono ottenere e poi bisogna usare tutti gli strumenti a disposizione perché non possiamo limitarci né innamorarci troppo delle tecnologie né pensare che la ridondanza in questo caso sia solo negativa.